Amici di Tennis Press, prima giornata al Foro Italico, sono imminenti le prequalificazioni, siamo in compagnia di Gianmarco Moroni a cui rivolgo un grande saluto. Ciao Gianmarco! Ciao, ciao a tutti! Sei sulla bocca di tutti gli appassionati di tennis, perché comunque hai ottenuto dei risultati veramente strabilianti ultimamente, hai ottenuto il tuo best ranking, sei entrato in top 400. Puoi parlarci un attimo delle ultime settimane? Da marzo in poi hai totalizzato quarti di finale e semifinali challenger, qual è stata la chiave di volta? Allora, sono stati tre mesi fantastici, ho giocato molto bene, la chiave di volta è che sono molto più tranquillo, sono più sicuro su quello che devo fare e questa tranquillità e questa sicurezza è arrivata dal cambio da Porticari a Madrid. Quando sono andato a Madrid ho trovato una tranquillità e ho iniziato a giocare molto più deciso, molto più aggressivo e tutto questo si vede dai risultati e si vede da come sta andando il tutto. Adesso cerchiamo solo di procedere. Vogliamo spendere due parole in favore del tuo coach, puoi presentarlo ai nostri lettori e dirci soprattutto su cosa avete lavorato, perché veramente hai raccolto ottimi frutti in tempi veramente brevi. Il mio maestro si chiama Oscar Buriesa e alcune settimane sono seguito anche da un altro maestro, si chiama Luis Zapata e mi ha dato, come ti dicevo prima, molta tranquillità e abbiamo iniziato a lavorare delle piccole cose, dei piccoli dettagli che hanno fatto una grande differenza. Svelaci qualcosa, magari qualche colpo su cui avete lavorato, conosciamo bene i tuoi fondamentali, la palla viaggia molto, il servizio è molto buono, riguardiamo i complimenti di Ranic ai tempi, però qualche piccolo segreto se puoi svelarcelo. Abbiamo migliorato il servizio, abbiamo migliorato il gioco da fondo, come dici tu, e niente, poi abbiamo anche lavorato abbastanza sul gioco a rete, un po' su tutto, però ho fatto in modo più specifico. Cosa ricordi delle partite, ad esempio, vinte contro Tiago Monteiro, Sebastian Hoefner in generale, vabbè, tutti i giocatori che gravitano nel circuito ATP tranquillamente, cosa ricordi e ti danno tanta fiducia quei match adesso per il futuro? Allora, quando ero tesissimo, prima di entrare in tutti i match... Non si direbbe perché poi li hai asfaltati. Però, per esempio, mi ricordo prima di giocare con Monteiro, l'avevo visto e ho fatto, c'è Monteiro, che figo! Oppure con Rosol, Rosol anzi, volevo chiedere la foto, lo credo anche, però poi alla fine ho dovuto cambiare un attimo l'ottica e mettermi nell'ottica che erano miei avversari. E niente, sono entrato i primi punti, ero leggermente teso, però poi alla fine ho iniziato a pensare al mio gioco, a quello che dovevo fare per batterli e con alcuni ha funzionato, come con Monteiro, come con Rosol, con Imeno Traver, però con altri come Robredo e Simone Bolelli, sicuramente devo migliorare alcune cose per poter portare a casa quelle partite con dei vecchi, insomma, leoni da tennis, perché Simone lo conosciamo benissimo, Tommy ugualmente, insomma. Però la strada è quella giusta perché in poco tempo hai fatto veramente dei grandi risultati e sei riduce da due settimane in Italia, Barletta-Francavilla, una settimana positiva, uno un po' meno. Cosa ti hanno lasciato? Ne hanno lasciato molto, soprattutto il calore che ho ricevuto in campo e ho provato delle emozioni che sono rimaste impresse, soprattutto prima della semifinale con Bolelli a Barletta e anche durante la semifinale ero felicissimo. Mi ricordo che non contava il risultato, ma contava tutto quello che stava succedendo e l'ero molto, molto contento. e spero e vorrei rivivere il più possibile quelle emozioni. Per farlo devo continuare a fare quello che sto facendo giorno per giorno, stare sul presente e niente. Mi piace moltissimo questo spirito, questa tua solarità. Hai parlato di giocare in casa, adesso siamo al Foro Italico, giochi praticamente a casa, sei di Roma, quindi avrai sulle spalle, sentirai il grandissimo calore del pubblico, dei tuoi amici. Ti piace giocare qui, con che aspettative arrivi? Sarebbe bello continuare la striscia positiva con un risultato di valore anche qui. Sì, speriamo. Ovviamente l'aspettativa di tutti noi che siamo qui a giocare le perquali è quella di prendere o la wall card in quali o in tabellone, però diciamo l'importante è per me cercare di dare sempre il massimo a qualsiasi partita e fare le cose che servono e niente, poi senza aspettative, senza nulla, le cose se uno se le guadagna arrivano, altrimenti niente, si continua a lavorare. Ti auguro il meglio, ti faccio un grande in bocca al lupo da parte mia, da parte di tutti i nostri lettori. Da Roma è tutto, per Tennis Press, Alessandro Re, ancora un caro saluto, in bocca al lupo a Gianmarco Moroni. Grazie mille, ciao a tutti.